Oggi qua Simone è durato un classico, abbastanza bene, prima di 10 km, ho fatto un ruolo, cerchiamo a fare un po' la selezione, ci siamo staccati gli odotti, l'hanno chiuso in 33, 33.10 mi sembra, e poi in bici gli odotti sono andati abbastanza bene assieme, abbiamo fatto la differenza in bici, purtroppo l'ultimo giro mi ha attaccato sullo strappo e non sono riuscito a seguirlo, ho riuscito ad entrare in zona cambio con una quarantina di secondi e poi ormai anche a piedi andava un po' meglio di me, quindi ho finito secondo perché ormai dietro abbiamo un buon vantaggio, comunque è abbastanza, molto bene perché secondo posto, secondo due a seconda stagione, secondo posto, adesso si va avanti così, sempre meglio.